Star Way to Heaven La canzone venne registrata in una villa chiamata Headley Grange, luogo di registrazione di tanti gruppi, in quanto dotata di una splendida acustica. Il suo testo è ricco di riferimenti allegorici e mistici, ma senza mai cadere nel satanismo, come molti detrattori del gruppo hanno provato a sostenere. Si parlava infatti di una frase che, ascoltata al contrario, avrebbe potuto contenere parole inneggianti al satanismo, ma come dicevi lo stesso Plent, per me è veramente triste. La canzone fu scritta con le migliori intenzioni e, circa i messaggi registrati al contrario, non è la mia idea di fare musica. Il brano è così legato alla voce di Plent che, quando il gruppo si sciolse, non venne mai permesso a nessun cantante dei vari gruppi di page di cantarla. Occasionalmente veniva riproposta, ma solo in versione strumentale.